Questa sera ti voglio tutti perché parleremo di giove Giamate, chiamate, chiamate Per avere la crema ristorante Mattino pomeriggio per le cose, vai vai Ma mentre aspettiamo Speciale Roma-Milano Con gli animari fortunati Che tra poco arriva Voglio sentire una persona che voglio aiuto Sandra, vai con la telefonata Pronto? Chi parla? Sono Stefano Stefano, dove mi chiami? La provincia di? Di Brescia Qual è il tuo problema Stefano? Perché chiami Magombai Stefano? Dimmi Il mio ragazzo mi ha lasciato Riuscirò a riconquistarlo Sentiamo il tocco di rama antico Bum, 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 bum Sono buone possibilità Stefano Che segno sei Stefano? Ariete Che hai di sotto po'? Che? No, fa niente Non puoi capire Senti rimane sono arrivando 3 2 1 giocato e 666 sulla rotta di napoli occhio le gambe sono arrivando All the... Did, 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 did. Crap! facciamomi dopo sul numero privato dai ti aiuto io dai non fa il rapino d'orellino vedi al magombai ti do una cinquina testa 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 volta testa testa Grazie a tutti.